Buongiorno, ben ritrovati giovedì 29 aprile. Dunque l'ospite di oggi è uno scrittore, uno scrittore in quanto romanziere, è uno scrittore in quanto saggista, è uno scrittore in quanto critico letterario, autore ad esempio, ho qui sotto mano un suo libro, li ho ordinati in ordine cronologico, alcuni me li sono persi perché tra un trasloco e l'altro ho ancora i cartoni imballati che si trascinano, qualcuno deve essere lì dentro, però comunque questo è, eccolo qua, lo vedete credo bene, scuola di nudo, poi la magnifica merce, poi troppi paradisi, è quello con cui io l'ho scoperto in ritardo rispetto a tutti gli altri, ma io come al solito me la prendo comoda, e quindi poi da troppi paradisi sono andato indietro e avanti, nel senso che poi è arrivato anche il contagio, poi è arrivata autopsia dell'ossessione, poi è arrivato il canto del diavolo, poi è arrivato resistere non serve a niente, poi è arrivato bruciare tutto, e infine come nella canzone di Branduardi, e venne questo, e venne l'altro, e venne l'altro, è arrivato questo, Walter City contro l'impegno, riflessioni sul bene, bene con la maiuscola, in letteratura per Rizzoli, e allora abbiamo il disimpegnato Walter City in collegamento, buongiorno sì, buongiorno, allora come va in tutto il suo splendore Walter City in collegamento da dove? Da Milano Da Milano, giornata uggiosa mi dicono? Direi di sì, grigio Grigio, ma adesso noi daremo un raggio di sole a tutti coloro che ci stanno visualizzando, come si dice relativamente al web, perché come lei sì ti sa, e come scrive anche in questo pamflet, un saggio con degli scritti inediti e degli scritti già editi, oggi tutto deve essere visualizzabile e commentabile e frazionabile sul web, e quindi noi cercheremo di dare delle schegge di riflessione. La prima domanda inevitabile, City è, qui non fai il romanziere, fai il saggista, fai il critico, e si scaglia contro l'impegno, per cui noi abbiamo già fatto una chiacchierata in proposito ragionando, opponendo contro l'impegno, quindi per il disimpegno, ma non credo che fosse questo lo scopo del suo scritto. Prego. No, in realtà contro l'impegno è un titolo un po' volutamente provocatorio, diciamo, io soprattutto nel finale del libro faccio anche una breve analisi di alcuni testi impegnati che mi sembrano molto belli, a partire da Emmanuel Carrère, poi c'è Santa Giovanna dei Macelli di Brecht, e poi c'è addirittura la Divina Commedia che, fino a prova contraria, è il nostro poema più impegnato della letteratura italiana ed è anche, credo, forse il nostro massimo capolavoro. Quindi, naturalmente, come dire, trovo che quando la letteratura si impegna, ma senza sacrificare la profondità e la complessità, possa essere ottima letteratura. Perfino quando, come dire, ha degli intenti proprio esplicitamente, non so, come dire, predicatori, penso, non so, a Ressurrezione di Tolstoi. La cosa che invece a me mi ha molto preoccupato in questi ultimi anni è una cosa che io chiamo il neoimpegno, proprio per distinguerlo dall'impegno della letteratura in generale, che è una cosa appunto di tutti i tempi, e anche da, diciamo, da quello più recente, cioè dall'engagement sartriano che ha occupato gli anni 50, perché trovo che invece questo neoimpegno sia una cosa molto diversa. C'è un libro appunto di un critico giovane francese che si chiama Alexandre Geffin, che si chiama Riparare il mondo, in cui appunto prende le distanze da Sartre, e credo che abbia ragione a prendere le distanze, nel senso che mentre per Sartre l'impegno è, cito così a memoria, l'autocoscienza di una società in rivoluzione permanente, ed è sostanzialmente una scuola di libertà, invece Geffin dice che il suo impegno è soprattutto teso a far stare meglio le persone, appunto a riparare i danni che può avere causato la vita, eccetera, eccetera, nelle persone, e quindi non so, riparare i lutti, riparare le omissioni della storia, eccetera, eccetera. Ecco, è questa funzione riparatrice della letteratura che a me non piace, perché penso che occupandosi di quello si dimentichi la funzione veramente importante della letteratura, che secondo me è conoscere le cose e non tanto ripararle. Sì, tra l'altro riparare il mondo, ho appreso leggendo il suo libro, anche un messaggio molto obamiano, mi pare, no? È stato il presidente… We can repair the world, certo. Ecco, noi possiamo riparare il mondo. Questa cosa che ha appena detto Walter City, a proposito del conoscere la realtà e non riparare i guasti del mondo con un'operazione salvifica, pedagogica, mi ricorda per quanto riguarda il giornalismo, giornalismo e letteratura su cui City poi fa dei ragionamenti a proposito delle somiglianze e delle differenze, però mi ricorda quello che diceva Walter Tobagi, assassinato nel 1980 da un comando di terroristi rossi, a proposito della professione del giornalista, cioè lui diceva, guardate, e lo diceva ai cosiddetti giornalisti impegnati di sinistra, guardate che compito del giornalista non è quello di andare in cerca dei cani con le gambe storte per raddrizzarle, cioè il compito non è raddrizzare le gambe storte dei cani nel mondo, ma è raccontare i fatti per come essi si affacciano all'attenzione del giornalista e dell'opinione pubblica con grandissima onestà intellettuale, ma non c'è il giornalista in missione per conto di Dio. Quello che dice City... Intanto questa cosa di raddrizzare le gambe ai cani mi ricordi irresistibilmente una cosa che diceva il mio maestro Franco Fortini, che diceva appunto che era contrario alla politica quando è ortopedia canina, in questo senso. Anche questa mi era ignoto, ortopedia canina non è male. Ortopedia canina. No, a proposito proprio del giornalismo e della letteratura, mi piacerebbe partire da una cosa che diceva Horacio Verbitsky, che è il famoso giornalista argentino, quello il primo diciamo così che ha tirato fuori la storia dei desaparecidos eccetera eccetera, a un certo punto lui con un tono molto tranchant diceva che il giornalismo è tirar fuori delle cose che qualcuno non vuole che si sappiano. Il resto è propaganda. Allora io penso che si potrebbe traslitterare questa cosa, trasportarla alla letteratura facendo questo cambiamento, cioè letteratura è quello che l'io, inteso appunto come io cosciente sia personale che collettivo, non vuole che si sappia. E quando noi non vogliamo che si sappia qualcosa, psicologicamente facciamo quella cosa che si chiama rimuovere, cioè lo cancelliamo, lo dimentichiamo, lo cacciamo nell'inconscio eccetera ed esiste un inconscio personale e anche uno sociale. Adesso qualcuno dice che l'inconscio non c'è più, ma insomma io continuo a essere uno di quelli nostalgici diciamo di quando ancora si poteva pensare che esiste una profondità della psiche, quindi dei livelli della psiche. Questo lavoro di portare in superficie quello che noi non vogliamo che si sappia di noi e quello che la società non vuole che si sappia della società in senso profondo, credo che lo possa fare la letteratura meglio di tante altre cose, perché la letteratura assomiglia un po' all'apsus, cioè a forza di giocare con le parole, le parole stesse si alleano tra di loro e portano in superficie delle cose che magari neanche l'autore lì per lì voleva dire. È pieno di testimonianze, soprattutto di poeti, ma anche devo dire di prosatori, che dicono io pensavo all'inizio di fare questa cosa e poi invece è saltata fuori quest'altra. Ecco, questo lavoro di scavo e di vera e propria scoperta, questa specie di avventura che può portare delle cose che ci fanno piacere in superficie, ma può anche portare in superficie delle cose che ci fanno dispiacere e che ci fanno male, credo che sia però il vero compito conoscitivo della letteratura e proprio per questo noi non possiamo usarla come un altoparlante per le cose che sappiamo già, perché se invece le cose più utili a noi sono quelle che noi non sapevamo e allora, come dire, dobbiamo lasciare, dobbiamo ascoltare la lingua, dobbiamo ascoltare che la letteratura ci parli e non possiamo dirigerla prima. Nella parte finale di questo libello contro l'impegno dove c'è questa confessione, o meglio questa riflessione conclusiva che City fa, mi piace molto, è che dice guarda della letteratura, adesso abbasso subito il livello, passiamo dal livello alto dell'esposizione di City al mio commento, ma la letteratura è anche dar conto e prendersi carico della stupidera, che è un termine che il modenese Walter City, stupidera è un termine, lombardo, non so se è anche emiliano, cioè è un modo di dire la stupidera che io conosco bene, sendo nato a Como. No, no, c'è una forma di contagio che io risento molto nei posti dove sto, il romanesco me lo faceva a Roma, il toscano me lo faceva a Pisa, adesso il lombardo me lo sta facendo a Milano. Ecco, appunto, la letteratura è questo, è anche questo. Dopodiché, nei diversi saggi che compongono questo libro, troverete evocati nomi e figure di scrittori e, in un caso, scrittrice, che in qualche modo incarnano questo modello di letteratura che crede che il compito suo primigenio, ontologico, sia quello di riparare il mondo e i mali del mondo, tanto per non girarci intorno, ma vi avverto, se voi pensate che il libro sia su questi tre scrittori italiani, colleghi di Siti, se lui non si offende, il cuore del libro non è quello, sono citati come esempi. Uno è Roberto Saviano, su cui Siti ha speso, insomma, credo quanto, un paio d'anni a studiarlo in maniera militare e meticolosa, Siti? No, un po' di meno adesso, per quanto sia, non è proprio Dante Alighieri, no, due o tre mesi. Due o tre mesi, ah sì, no, in realtà quello è il tempo che ha impiegato invece Siti come curatore delle opere complete di Pasolini per i Meridiani e i Mondadori, no, ma invece sono più di due anni su Pasolini, quanto c'è stato Siti su Pasolini? Sono stati sette, dal 1996 al 2003. Ecco, questo per quanto riguarda Pasolini. Saviano, Michela Murgia e caro figlio, caro figlio, quello su cui si sofferma di meno, Siti, denunciando, facendo coming out a proposito dell'irritazione che gli hanno dato i suoi ultimi due breviari, mi pare, uno del 2015, uno del 2020, Siti è così, caro figlio, caro figlio che se qualcuno non ha letto i suoi libri sicuramente conosce come personaggio televisivo perché è un ascoltato ospite, reiterato ospite di Lillie Gruber a 8 e mezzo sulla 7. Prego, Siti. No, intanto non mi offendo per niente, è ovvio che sono dei colleghi, mi viene in mente un straordinario dialogo tra Busi e Testori, un po' di anni fa, quando Busi con un'aria molto aggressiva, gli ha detto, perché io credo di essere uno scrittore migliore di lei, e Testori gli ha risposto, sa, ci vuole così poco, a parte questo, diciamo, in realtà sono tre figure molto differenti, forse unite appunto da questa cosa dell'idea della letteratura come lotta, però mentre, mentre caro figlio è molto irenico e quindi pensa a una lotta diciamo che assomiglia molto alla buona educazione, ai buoni rapporti da tenere dal punto di vista argomentativo, non urlare, non strillare, eccetera, eccetera, Saviano per esempio è molto più agonistico, usa spesso un linguaggio bellico, eccetera, mentre Michela Murgia mi sembra quella forse che utilizza di più le vecchie tecniche dell'illuminismo. Tra l'altro questa cosa di riparare il mondo mi colpisce perché non è lessico rivoluzionario riparare, riparare significa aggiustare riformisticamente e quindi, come dire, in qualche modo questo impegno rubidisce però alla imparlabilità della parola rivoluzione che sembra dominare tutti questi anni. A parte questo, dicevo, forse loro tre sono esemplari, se vogliamo, insomma, di un certo modo di intendere la letteratura come strumento, ecco questo forse sì. Penso però che, come dire, il loro successo si basi anche su alcune cose che sono accadute a un livello più basico, diciamo. Penso soprattutto a quello che sta accadendo con i social che da una parte favorisce appunto la frammentazione, favorisce la semplificazione linguistica perché, come dire, i social sono fatti da persone che dicono di voler abolire qualunque tipo di elitarismo per cui appunto uno vale uno sui social dal punto di vista comunicativo e dall'altro tendono a stilizzare anche i sentimenti per cui invece che l'ambiguità, la complessità e anche appunto la ferocia dei sentimenti sembra che ci troviamo di fronte un po' a delle figurine panini, dei sentimenti, insomma, a delle cose già un po' preparate. Penso per esempio a certe storie delle, non so, dei reality televisivi o dei podcast dove si ha l'impressione che le storie siano addomesticate dalla persona stessa che la racconta, la propria storia, sempre nell'idea appunto di raccontarla dal lato migliore. E quindi, come dire, ho paura che sia veramente un momento in cui la letteratura, come la intendo io, stamattina Tiziano Scarpa da Los Angeles, non so perché, sta leggendo il mio libro e mi diceva è pieno di un orgoglio modernista, nel senso appunto di novecentesco. Ho l'impressione che quel tipo di letteratura lì, appunto, quella letteratura che non badava tanto all'efficacia ma al senso e allo spessore dei sensi che possono stare dentro a un testo letterario, stia cadendo in un cono d'ombra, come è accaduto molte volte nella storia, sia diciamo in senso cronologico, sono stati dei secoli quasi senza letteratura, sia in senso geografico dei posti dove a lungo la letteratura non è stata, come dire, al primo posto nelle classifiche delle cose culturali. Ed è, secondo me, un peccato perché rischiamo così di perdere uno scandaglio piuttosto prezioso in quello che accade. Ieri, parlando a Fahrenheit, mi è venuta in mente questa cosa della Cina. Per tutto l'Ottocento in Cina la letteratura era considerata molto meno della storia, molto meno di altre cose, il romanzo quasi non esisteva, si scoraggiavano i bravi scrittori dallo scrivere romanzi e, appunto, dicevo, è per questo che dell'anima cinese non sappiamo quasi niente, mentre dell'anima russa sappiamo tutto perché ci sono stati Dostoi, Dostoevsky, Gogol, Chekhov, eccetera. E quindi il venire meno della letteratura come ricerca, come scandaglio rischia poi, sui tempi lunghi, di non farci conoscere alcune cose magari poco appariscenti ma molto serie dei cambiamenti che poi accadono nel mondo. Sì, non so perché mentre ascoltavo Siti mi veniva in mente, anche se lui nel suo libro poi fa un ragionamento su approccio marxiano o approccio non marxiano alla letteratura, al linguaggio. Mi è venuto in mente Marx che diceva che i filosofi fino ad oggi hanno interpretato il mondo, ma adesso si tratta di trasformarlo. Credo che fosse addirittura del manifesto del Partito Comunista. Eh sì, eh sì. Lo dico da giovane ex iscritto alla Federazione Giovanile Comunista negli anni 70, quando il mio segretario era D'Alema, apro una parentesi con Siti, Siti che D'Alema conosce perché entrambi stavano appisa alla normale, o sbaglio? Sì, il massimo è venuto due anni dopo, io sono entrato nel 66 e lui nel 68. Ecco, tra l'altro… Marx diceva anche abolire lo stato di cose presente, che era una cosa abbastanza precisa. Ah, questa non me la ricordavo, abolire lo stato di cose presente. Eh beh, sì. E quindi, seguendo nel suo ragionamento, questi scrittori che abbiamo menzionato in maniera diversa, con registri diversi, pensano anche che il compito dello scrittore, del letterato, quindi dell'intellettuale, sia quello di adoperarsi attraverso le sue opere per una trasformazione del mondo, no? Sì, però riformista. Insomma, mi ha colpito molto una cosa che Saviano ha scritto su Instagram, sul suo account Instagram, che se si fosse trovato a Livorno nel 21 avrebbe votato per Turati. Vede? Mentre uno si ragionevolmente dice… Ma vabbè che adesso Saviano, poi nel corso del tempo, ma adesso vogliamo intrattenerci troppo su Saviano, perché voglio segnalarvi un altro capitolo del libro, di questo saggio di saggi. Saviano poi è entrato in polemica, in rotta di collisione con i vertici del PD, più di recente, ma insomma ha una sua parabola, un suo percorso personale che riguarda lui. Dico un altro capitolo, perché a un certo punto memore del fatto che Siti, in questa sua multiforme attività, se vi capita rimettete le mani sulla lettura, il supplemento del Corriere della Sera che è uscito il 25 aprile e troverete il saggio, perché è un saggio la sua volta che scrive Alessandro Piperno sul libro di Siti e dove parla anche di questi due aspetti della biografia professionale di Siti, di uno che poi ha questo curriculum da un punto di vista, giudicandolo in base ai parametri, prestigioso, e poi uno che però si è sporcato le mani con la realtà, col suo essere, l'essere degli altri e lo dico addirittura facendo a un certo punto l'autore televisivo, perché fra l'autore televisivo, lo scrittore, il saggista, il curatore per Meridiani Mondadori, lavorandoci sette anni, delle opere di Pasolini, com'è che si ritrova a fare l'autore televisivo e poi di che programmi Siti, scusi? Dunque ho perpetrato un programma che si chiamava Al Posto Tuo, per tre anni mi pare, sì, nel periodo in cui era condotto da Paola Perigo e invece l'ultimo anno da quella signora che adesso fa il programma religioso su Rai 1, la Bianchetti, esattamente, la Lorena Bianchetti, sì. La Lorena Bianchetti, e che esperienza è stata quella di confrontarsi con il mezzo, il linguaggio e l'ambiente della televisione? È stata molto nutriente per me, perché era il periodo appunto che stavo preparando Troppi Paradisi, dove in effetti si parla molto di televisione, perché mi colpiva questa cosa di partire da delle storie reali, di gente reale, e poi il verbo che usavano per dire qual era il nostro compito era di televisionare queste storie, e televisionare significava appunto renderle appetibili per lo spettacolo televisivo, e quindi siccome in quel periodo mi interessava molto il rapporto tra vero e verosimile, tra verità e menzogna, tra autobiografie, autofiction, eccetera, questo rapporto tra realtà e finzione che si faceva appunto in un programma come quello l'ho trovato molto interessante, perché sono successi alcuni casi che ho trovato esilaranti e molto istruttivi da questo punto di vista. Ecco, evocavo questi trascorsi in quell'ambientaccio che la televisione di Walter City, perché uno dei saggi si occupa anche dei talk show politici, in cui la riflessione che fa City, e mi trova totalmente d'accordo, è che poi si tratti di una piccola compagnia di giro che può contare su un centinaio di persone, nel senso che più o meno fra i conduttori, i politici e gli opinionisti di Riffa o di Raffa, quelli che girano sono sempre gli stessi, il che secondo me ha anche generato una certa noia e saturazione nei confronti del genere. Poi c'è la famosa storiella dei ladri di Pisa, si dice che i ladri di Pisa vanno a rubare, di giorno sono nemici e poi vanno a rubare insieme. Esatto, beh più prosaicamente a Roma si dice litighiamo davanti alle telecamere e poi andiamo tutti a mangiare dal fortunato al Pantheon, che è un storico ristorante dietro Montecitorio dove i politici sciamavano affaticati dai lavori parlamentari. A proposito dei lavori parlamentari, City, se vuole c'entra anche con il tema di questo suo ultimo lavoro contro l'impegno, ci si sta impegnando molto a livello politico, a livello parlamentare per l'approvazione del cosiddetto disegno di legge Zanna, quello che viene presentato come la rivoluzione che il nostro paese sta aspettando sul piano del rispetto e dei comportamenti contro l'omofobia. In realtà dentro a quel provvedimento, per chi l'ha letto tutto e non semplicemente orecchiato, come gli svippati dei social che si fanno fotografare con le mani pulite, con scritto DDL e Zanna e mi ci gioco quello che volete voi, il 90% di questi svippati non sa che cosa c'è scritto nel disegno di legge Zanna. Io non so se lei ha seguito il dibattito e che cosa ne pensa del fatto che in realtà sotto l'ombrello meritorio di lotta all'omofobia, ma mi pare ovvio, almeno dal mio punto di vista mi pare ovvio, io non sono mai stato omofobo e trovo che chi è omofobo è un coglione e soprattutto se questo coglione passa le vie di fatto nei confronti dei gay, come nel famoso video che si è visto di Valle Aurelia, questa stazione romana dove un signore attraversa i binari per dare due sberle a due ragazzi che stavano scambiando delle effusioni, quel signore va preso, messo in galera e buttata via la chiave, ma questo lo do per scontato, in realtà ci sarebbe molto altro. Posso chiedere che cosa ne pensa di tutto l'ambaradana? No, no, io ho seguito la cosa, tant'è vero che l'altro giorno ho scritto anche un articolo per il giornale. Per il giornale domani? Domani, sì, sì. In questo articolo allora mi confessavo che effettivamente io sono stato invece omofobo, a differenza sua, perché c'è stato un periodo della mia vita in cui certe forme, come dire, troppo clamorose, troppo esibite di omosessualità sinceramente mi davano fastidio. E poi credo effettivamente di essere fondamentalmente misogino, perché ho organizzato la mia vita come se le donne, in quanto donne, sostanzialmente non esistessero al mondo, il che lo sento come un handicap forte per uno che fa il romanziere. Nel senso che io riesco a parlare delle donne nei miei romanzi solo se hanno qualche magagna, se hanno avuto il cancro, se sono anziane, se hanno qualche problema. Ma una donna nel pieno esercizio delle sue funzioni non riesco a metterla dentro ai miei libri, il che per esempio anche mi impedisce di essere particolarmente orgoglioso di essere omosessuale. No, però, come dire, io penso che il decreto legge Zanna andrebbe approvato subito e basta, perché è una cosa necessaria, perché questa cosa delle aggravanti e delle attenuanti è fondamentale nelle nostre leggi e mi sembrano un po' vili le cose di dire no, ma ci sono cose più importanti da fare, perché sono chiaramente delle scuse da questo punto di vista. Però penso che subito dopo aver approvato il decreto di legge Zanna, se possibile togliendo questa cosa dell'identità di genere, perché credo che… Oh, grazie Siti, grazie, grazie. Perché è una cosa su cui bisogna pensare molto e non si può liquidare con due parole in un decreto legge, però appunto togliendo questa cosa, approvarlo subito, dopodiché cominciare veramente invece un confronto serio, culturale, in cui anche, come dire, gli omosessuali, transessuali, eccetera, fanno, come io nel mio piccolo ho provato a fare nel corso della mia vita, anche degli esami di coscienza e anche delle autocritiche, per cui, come dire, io sono stato, sono forse misogino, sicuramente sono stato omofobo, forse anche transfobico, perché pensavo che, come dire, che alcuni transessuali fossero semplicemente preda di un falso sillogismo, di quelli che Aristotele diceva che non bisognava fare, tipo a me piacciono gli uomini, alle donne piacciono gli uomini, quindi io sono una donna. Mentre ho capito che ci sono invece cose molto più profonde, sia psicologiche che biologiche, eccetera, eccetera, così come pensavo che i bisessuali fossero sostanzialmente degli omosessuali timidi, mentre poi ne ho conosciuto qualcuno che era veramente bisessuale in senso pieno e quindi ho capito che ero anche bifobico. Però, insomma, ecco, questa cosa di vedere un po' dentro di sé quali sono le resistenze da una parte e dall'altra, penso che sarebbe un esercizio giusto e tornando alla letteratura, penso che la letteratura questo dovrebbe fare, non so, perché l'altro giorno da Bianca Berlinguer mi ha colpito molto lo scatenamento furibondo di una mamma toscana che aveva scoperto che la figlia è lesbica ed erano parole improntate di un tale odio così follemente disperato che io mi sono chiesto ma quali fantasmi si stanno agitando dentro questa donna per immaginare che sua figlia, per il fatto di essere lesbica, debba per forza per tutta la vita essere condannata come una troia, per pensare a una figlia così tanto plagiabile che gli è bastato essere in contatto con un'altra ragazza per diventare lesbica. Che cosa c'è? Quali inferni ci sono all'interno di questa donna? Quelle cose lì secondo me con un romanzo le puoi affrontare, mentre dieci minuti in televisione no. Sì, tra l'altro dicendo alla figlia spero che tu possa morire di cancro, tra trocicolmente, insomma è una roba... Terrificante, per cui uno dice ma fatemi capire cosa c'è dentro questa signora, ecco. Ecco, allora, se fino ad oggi non avevate mai sentito parlare, non conoscevate Walter City, spero che la chiacchierata che abbiamo appena fatto e che qui si conclude, perché giustamente siamo anche già fuori di un paio di minuti, serva di stimolo, se non a farvi scoprire la letteratura to court, almeno scoprire Walter City e se non volete fare come me, andandovi a prendere i vari libri che ha scritto City, almeno leggere l'ultimo contro l'impegno, perché qui c'è scritto esattamente quale deve essere dal punto di vista di City, ma io lo sottoscrivo, l'approccio nei confronti dei libri e della letteratura, cioè non tanto salvare il mondo, ma se uno ci riesce almeno a capire qualcosina in più di se stessi. Allora, grazie Walter City, è stato un piacere come sempre, domani da un grande romanziere vincitore del premio strega nel 2013, critico, saggista, a un grande allenatore di calcio, Marcello Lippi, con cui faremo il punto sulla Superlega, il campionato, le coppie internazionali e così via. Grazie a tutti, grazie City, buona giornata, continuate a seguire le fonti, buon lavoro ai colleghi che ci seguono e i loro ospiti, noi ci rivediamo domani mattina alle 10. Ciao! Grazie a tutti!